Salve, sono Daniela Vidano. Benvenuti alla terza edizione del Salone Internazionale della Pittura su Procellana a Lyon, in Francia. Per tutti quelli che non sono potuti venire, vi porco una piccola finestra dell'esposizione, con i saluti di alcuni espositori ed artisti. Buona visione. Ecco il mio stand, coi miei lavori, dove davo dimostrazioni non stop della mia tecnica. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il Salone Principale, dove erano esposti tutti i lavori in concorso. Ecco alcuni lavori e un saluto dal nostro caro amico Eduardo Reis, Brasile. Eccomi con Katrin Bergwan, l'organizzatrice. Un grazie per la sua gentilezza e per la splendida opposizione che ha organizzato. Un grazie anche Isabel, che non si vede nelle riprese. Un saluto da Paola Cenciarelli, Roma, Italia. I lavori dell'Accademia Internazionale di Pittura Suprocellulana di Nizza, Francia. Un saluto da Pascalla Combe, Francia. Una grande artista, Esther Batista da Silva. Suo marito Vittor e accanto lui un giovane artista, sempre dal Brasile, Lewis Reis. Eccovi un artista che io stimo molto. Un saluto da Tatiana e sua figlia. Associazione FP2, da Bordeaux e il suo nuovo presidente Henry. Un saluto da Beatrice, di Creazione Bijoux, Parigi. Isabel Caralli, da Busset e Rachel Plantier, da Lyon. Il grande Filippo Pereira, con il suo assistente Christian. Un saluto dall'Atelier Ombra e Lumiere, da Lindry, Francia. Un saluto da George e Michelin, la SERF. Da quest'anno saranno i nuovi organizzatori dell'esposizione di Martigny. Eccovi mei e Rodolf Nutzli, organizzatori per ben 17 anni del Salone di Martigny in Svizzera. Grazie per quello che ci avete dato. Un saluto dall'Energica Rosy Borges, da Obrasil. Eccoci alla fine. Un grande abbraccio a tutta la famiglia della Porcellana. Alla prossima. Un saluto dall'Energica Rosy Borges. 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 Un saluto dall'Energica Rosy Borges.